Scopri tutto sulla sindrome di Stoccolma in questo approfondito articolo che esplora la sua comprensione, impatti e prospettive. Tale sindrome è un fenomeno psicologico complesso che merita attenzione e comprensione approfondita. In questo articolo, esamineremo le radici storiche della sindrome, le sue manifestazioni contemporanee e le implicazioni per le vittime e i soccorritori. Inoltre, esploreremo le prospettive future per la ricerca e l'intervento in questo campo in continua evoluzione. L'articolo è rivolto a un pubblico generale, offre informazioni dettagliate, approfondimenti e orientamenti pratici per una comprensione completa di questo fenomeno complesso. Introduzione alla sindrome di Stoccolma. La malattia mentale è un fenomeno psicologico complesso che coinvolge sentimenti positivi da parte della vittima nei confronti della guzzino, nonostante l'essere stato sottoposto a situazioni di coercizione o minaccia. Questo particolare legame emotivo può portare le vittime a sviluppare una sorta di affetto o simpatia nei confronti della persona che le tiene in ostaggio o le sottopone a situazioni di abuso. Il termine, sindrome di Stoccolma, ha origine da un evento del 1973, quando alcuni ostaggi presi in ostaggio durante una rapina a Stoccolma svilupparono un legame emotivo con i loro abuzzini. Questo fenomeno ha attirato l'attenzione dei media e degli psicologi, portando alla formulazione del suo concetto. Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi casi famosi che hanno evidenziato questa particolare dinamica psicologica. Tale sindrome ha implicazioni significative per le vittime e i soccorritori, poiché può influenzare il processo di recupero e la percezione dell'esperienza traumatica. È importante comprendere i meccanismi psicologici coinvolti nella sindrome al fine di fornire un supporto adeguato alle vittime e prevenire potenziali ricadute. Inoltre, la ricerca continua a esplorare nuove prospettive e approcci per affrontarla in modo più efficace, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza e del supporto psicologico per coloro che ne sono affetti. Perché si chiama così? La patologia prende il nome dalla rapina in banca avvenuta a Stoccolma nel 1973, durante la quale gli ostaggi svilupparono un legame emotivo con i loro abuzzini. Questo evento ha attirato l'attenzione dei media e degli psicologi, portando alla formulazione del suo concetto. Il nome è diventato simbolicamente associato a situazioni in cui le vittime sviluppano sentimenti positivi verso coloro che le tengono in ostaggio o le sottopongono a situazioni di abuso, nonostante la situazione traumatica vissuta. Questo fenomeno ha suscitato un interesse diffuso per comprendere le dinamiche psicologiche coinvolte e per sviluppare strategie di supporto e intervento a beneficio delle vittime. Che cos'è? I meccanismi psicologici coinvolti in questa malattia sono complessi e possono variare da persona a persona. Tuttavia, alcuni elementi comuni includono il trauma psicologico subito dalla vittima, la percezione di una minaccia costante e la ricerca di una via di fuga emotiva. Questi fattori possono portare la vittima a sviluppare sentimenti di gratitudine o addirittura affetto nei confronti della guzzino, come meccanismo di difesa psicologica. Le dinamiche tra vittima e a guzzino sono influenzate da una serie di fattori, tra cui il potere e il controllo esercitati dalla guzzino, la dipendenza emotiva della vittima e la mancanza di alternative realistiche per sfuggire alla situazione. La coercizione e la manipolazione svolgono un ruolo chiave nel consolidare il legame emotivo tra vittima e a guzzino, creando una sorta di connessione distorta e disfunzionale. Narcisismo. Questa sindrome può essere associata a dinamiche di potere e controllo, e può manifestarsi in diverse situazioni, tra cui abusi domestici, sequestri, e situazioni di coercizione psicologica. È importante riconoscere i segni e i sintomi al fine di fornire un adeguato supporto e assistenza alle vittime. Inoltre, la ricerca continua a esplorare le connessioni tra questa malattia mentale e altri disturbi psicologici, come il narcisismo, al fine di comprendere appieno questo fenomeno complesso e sviluppare strategie di intervento più efficaci. Impatti. Gli effetti a lungo termine della sindrome sulle vittime possono essere significativi. Le implicazioni per la salute mentale possono includere ansia, depressione, disturbo da stress post-traumatico e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Le conseguenze sociali ed emotive possono manifestarsi attraverso la stigmatizzazione, la mancanza di supporto da parte degli altri e la difficoltà nel riconoscere la propria condizione. Inoltre, la sindrome può influenzare le relazioni interpersonali e la capacità della vittima di fidarsi degli altri. È importante riconoscere che la sindrome di Stoccolma non è limitata a situazioni di ostaggio, ma può manifestarsi anche in contesti di abuso domestico o coercizione emotiva. Pertanto, è fondamentale sensibilizzare il pubblico su questa problematica e fornire supporto e risorse alle vittime in modo da favorire il recupero e la guarigione. Infine, è necessario continuare a investire nella ricerca e nell'educazione per comprenderla appieno e sviluppare strategie efficaci per prevenirla e intervenire in modo tempestivo. Prospettive e approfondimenti. Il ruolo della sindrome nella cultura contemporanea è oggetto di dibattito e riflessione. Gli approcci terapeutici e il supporto per le vittime sono cruciali per favorire il recupero e il superamento di questa esperienza traumatica. La prevenzione e la sensibilizzazione pubblica sono fondamentali per aumentare la consapevolezza su questo fenomeno e per promuovere una maggiore comprensione e sostegno per le vittime. Inoltre, è importante considerare il ruolo della giustizia e della legge nel trattare questi casi in modo da garantire una risposta adeguata e giusta per le vittime. La formazione degli operatori sanitari, degli assistenti sociali e degli operatori di giustizia sul riconoscimento e sul suo trattamento, è essenziale per garantire un supporto appropriato alle vittime. Malattia salute mentale. Questa malattia rappresenta un importante campo di studio e di intervento nel contesto della salute mentale e del benessere delle vittime. È fondamentale che sia riconosciuta e affrontata in modo adeguato, sia a livello individuale che sociale. Inoltre, la sensibilizzazione e l'educazione sulle dinamiche e sugli impatti di questa sindrome sono cruciali per promuovere una cultura di supporto e comprensione verso coloro che ne sono affetti. Infine, la ricerca e lo sviluppo di strategie di prevenzione e intervento continuano a essere prioritari per migliorare la qualità della vita delle vittime e per evitare situazioni simili in futuro. Guarire è possibile? Guarire dalla sindrome richiede un approccio olistico che coinvolga il supporto psicologico, sociale e legale. È essenziale che le vittime ricevano un trattamento terapeutico mirato per affrontare i traumi subiti e ricostruire la propria autostima e fiducia. Il sostegno sociale e la comprensione da parte della famiglia, degli amici e della comunità sono fondamentali per il processo di guarigione. Infine, è importante che le vittime abbiano accesso a risorse legali e a un sistema di giustizia che le supporti e le protegga durante il percorso. Casi famosi Alcuni casi famosi includono quello di Patty Arst, rapita nel 1974 e successivamente coinvolta nelle attività criminali dei suoi rapitori, e quello di Natasha Kampusch, tenuta prigioniera per otto anni in un seminterrato. Questi casi hanno suscitato un dibattito pubblico e hanno evidenziato la complessità e la gravità della malattia. È importante studiare questi casi per comprendere appieno le dinamiche e gli impatti di questa sindrome e per sviluppare strategie di prevenzione e intervento più efficaci. Inoltre, tali casi famosi possono sensibilizzare il pubblico sull'importanza di riconoscere e affrontarla in modo tempestivo e appropriato. Conclusione. In sintesi, la sindrome rappresenta un complesso fenomeno psicologico con profonde implicazioni per le vittime coinvolte. È importante comprendere i meccanismi coinvolti, riconoscere gli impatti a lungo termine e promuovere prospettive orientate al sostegno e alla sensibilizzazione. Un messaggio finale di consapevolezza e sostegno per le vittime è essenziale per favorire un ambiente di comprensione e solidarietà.